Tutto il territorio comunale sarà coinvolto nelle manifestazioni. Titolari dei locali, degli stabilimenti balneari e amministrazione comunale di Monte Silvano preparano insieme le iniziative per l'imminente stagione estiva in città. Il sindaco Ottavio De Martinis spera che si possa ripetere il successo degli anni precedenti con un boom di presenze di turisti. Come si sta organizzando l'amministrazione comunale? Gli ultimi due anni abbiamo vissuto, nonostante i problemi derivanti dalla pandemia, due stagioni davvero importanti con presenze record sulla nostra città. Contiamo che anche quest'anno sia così, motivo per il quale stiamo mettendo in campo tutte le azioni possibili per rendere la nostra città decorosa, accogliente e per regalare ai turisti degli eventi e delle attrattive che possano risultare vincenti in questo punto di vista. La sinergia tra amministrazione pubblica e tutti gli operatori turistico-economici della città risulta essere importantissima proprio ai fini turistici e per questo motivo non soltanto ai bagnatori ai quali abbiamo chiesto di restare aperti la sera per offrire qualche attrattiva in più, ma anche con tutti gli altri operatori stiamo portando avanti delle riunioni per assicurare il meglio in vista della stagione turistica che ha le porte.